e poi sospeso tra i vostri come sta meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci tipo come ti senti amico amico fragile se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te lo sa che io ho perduto i tuoi figli signora lei è una donna piuttosto distratta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti